Buongiorno, sono Mauro Viganò, sono il responsabile commerciale di SDT Italia e quest'anno all'Energy Efficiency del 2019 presentiamo uno strumento, è una tecnologia innovativa, il nostro nuovo rilevatore di ultrasoni SDT 340 che è uno strumento che si rileverà assolutamente performante nel campo dell'efficienza energetica in quanto è uno strumento molto sensibile che potrà svolgere al meglio tutte le applicazioni di ricerca periti di aria compressa e di gas in pressione e in vuoto e soprattutto il controllo dell'efficientamento dei sistemi di vapore, quindi controllo di scaricatori di condensa, controllo di periti di vapore e lubrificazione di organi rotanti che molti sottovaluano questo aspetto ma la lubrificazione di organi rotanti può generare un impatto economico rilevante nel campo del risparmio energetico sugli oli lubrificanti e sull'ingrassaggio Assolutamente sì, questo evento è fondamentale per noi perché ci mette in contatto con le persone giuste al posto giusto quindi abbiamo la possibilità di trasmettere la corretta informazione alle persone che sono preposte a occuparsi dei temi dell'efficientamento energetico e quindi gli energy manager come possono essere anche magari i responsabili di produzione o i responsabili di manutazione quindi siamo direttamente in contatto con le persone con cui vogliamo intraprendere un discorso di efficientamento e di soluzioni per i loro problemi Grazie a tutti